è arrivato quel momento il momento in cui rispondo alle vostre domande non avevo in programma questo video ma eccomi qui a farlo ma perché lo sto facendo se non lo dovevo fare bene c'è tutto grazie a una follower e prima di partire ci tengo a dire che io sono felice di farlo cioè non lo faccio con nessun peso la follower che mi ha scritto non si deve sentire in colpa a disagio tranquilla cioè tranquilla a me piace interagire con voi come dicevo nasce tutto con questo video video importante in cui vi chiedevo di scrivermi delle domande e nel prossimo video nel video seguente vi avrei risposto insomma il video ormai l'avevo pubblicato quando mi trovo davanti qualche giorno fa questa domanda e mi era arrivata in ritardo penso c'era luciana che mi chiedeva come è convinto i tuoi genitori a farti aprire il canale bene io di tutta risposta gli ho detto che posso fare un altro video in cui rispondo alle vostre domande e quindi appunto lo stiamo facendo scrivetemi le domande nei commenti iscrivetevi e attivate la campanella per vedere se vi rispondo nel prossimo video ciao